Non so quanti di voi conoscono Rexantarax, è diciamo uno youtuber che ha sempre lavorato a stretto contatto con quello che riguarda il mondo di Diablo e di Diablo in generale e in questo caso di Diablo 4. Ecco, ha fatto un'intervista ai developers quali Adam Jackson e Joe Piepora perché ci sono stati dei notevoli cambiamenti al pit. Ragazzi, il pit, come voi ben sapete, è l'attività endgame che per adesso sembra essere la più quotata per poter giocare in questa season 4. Andiamo a vedere subito quali sono i cambiamenti. Benvenuti ragazzuoli, qui è Dalkan che parla. Allora, voglio discutere per quanto riguarda questo pit, il pit ragazzi, la fossa, questa attività endgame che a quanto pare sembra essere stata rivisitata. Cosa voglio dire? Voglio dire che ricordate l'Abattoir of Zir, quel dungeon continuo dove c'era un upgrade continuo che bisognava fare per cercare di livellare e ogni livello dell'Abattoir of Zir corrispondeva a tanti livelli di un Nightmare Dungeon. Ecco, in questo momento preciso è stato chiaramente detto dai developers che il 150, quindi il livello 150 che attualmente avremo sul pit, dato che è stato rivisitato o che i giocatori nel PTR si sono lamentati che fosse un pochino troppo semplice, e qui varrà al livello 25 dell'Abattoir of Zir. Stiamo parlando di un livello eccessivamente alto, quindi non avremo neanche più il Tears of Blood, quel famoso sigillo che ci permetteva di aumentare drasticamente i nostri danni e le nostre resistenze. Sappiamo benissimo anche un'altra cosa, che ovviamente quando c'è stato il developer update ci hanno detto che il livello non salirà più di tanto ormai per quanto riguarda i mob, perlomeno dei danni che faranno, perché c'è il level cap che si blocca. Il problema è che hanno deciso, o perlomeno non è un problema, è una decisione, quindi non è neanche sbagliata, perché questo è un contenuto endgame, quindi ci sta che sia così, che i mob oltre il livello 150 avranno una vita esageratamente alta. Il che significa che dovremo utilizzare delle build, come al solito, specifiche, per poter affrontare una cosa di questo genere. Nell'intervista si è parlato anche di una cosa nello specifico, del fishing. Che cos'è il fishing in Diablo 4? Beh ragazzi, non è altro che cercare la condizione perfetta tra nemici e tra magari santuari e magari il livello stesso, quindi lo stage in quel momento, del pit o che, qual si voglia, magari anche del great rift come era in Diablo 3, per poter ottenere il miglior risultato. Che significa? Che la maggior parte dei giocatori sono un pochino preoccupati per quanto riguarda questo, perché in Diablo 3 si faceva così. Si entrava nel great rift, se si vedeva che la mappa non era adatta e che magari non c'era il classico stage con tutti i santuari messi in un punto preciso, si quittava direttamente e si ricominciava. Perché? Perché non c'era la possibilità, altrimenti, di ottenere un risultato incredibilmente alto. Questo perché ragazzi? Perché è normale che ci sia della range nel gioco, quindi ogni stage è diverso, altrimenti staremmo parlando del gauntlet, che è una cosa totalmente diversa. Cioè, il gauntlet come funziona? Si entra in una mappa prestabilita, i mob sono quelli, i santuari sono quelli, di conseguenza si studia strategicamente quella che è la condizione migliore per poter affrontare al massimo e ottenere il miglior risultato possibile e finire ovviamente in classifica. Ecco, questa cosa funziona in una maniera totalmente differente. Quando stiamo parlando di pit, stiamo parlando di qualcosa legato, come abbiamo detto prima, all'RNG. Succede che voi entrerete nella mappa, non avrete la certezza di quello che troverete, ma saprete che dovrete concluderla. Perché dovrete concluderla? Perché vi serviranno i materiali per poi potenziare il tutto, il master working e tutto il resto, altrimenti non potrete farlo. Più andrete in alto, più sarà alta la vostra ricompensa. Un altro cambiamento che è stato fatto, e questo è abbastanza notevole, non ci vorranno più 10 minuti, bensì 15. Significa che avrete molto più tempo per poterla concludere. Questo perché, chiaramente, avendo aumentato anche la difficoltà, ripeto, dal livello 150 in più, quindi non stiamo parlando dal livello 100, dal livello 120, livello 130, no. 150, comunque dovrete arrivarvici, quindi sappiate che comunque sarà una sfida doverci arrivare. In più, dovrete poi cercare di superare quei livelli. Chissà quanto potrà diventare ancora più complessa, perché ragazzi, ripeto, quando abbiamo fatto Avatar of Zir, quanti al mondo sono riusciti ad arrivare al livello 25? Cioè, seriamente, sono state pochissime le persone. Anche perché, come l'avevo chiamato io, era una ruota per criceti, bisognava continuare a fare quella per aumentare il Tears of Blood. Tears of Blood aumentato vi permetteva di poter fare un livello maggiore e così continuavate a fare questo giro, questo circolo vizioso. Il che, per me, in quel momento non era il massimo dell'attività endgame, ma qui si parla di un altro discorso. Il pit è basato non solo per superare un certo tipo di sfida e livello, ma anche per darvi dei materiali, che sono fondamentali per diventare più forti. Il che fa molto pensare una cosa molto simile a quella che era appunto l'abattuare. Soltanto che in questo caso avrete molto più tempo, perché abbiamo fino a 15 minuti per concludere uno stage. Quindi tutto sommato non male. E quindi quali saranno le build più adatte per poter affrontare questo nuovo pit, questo nuovo endgame che arriverà. Nuovo sempre per modo di dire, perché ricorda troppo il Great Rift di Diablo 3. Beh, ci sono delle build che in questo momento sembrano essere migliori rispetto alle altre. Il Negromante in questo momento ha una build particolare con i minion, se non erro, addirittura con le spine. Quindi qualcosa di davvero poco sperimentato rispetto al solito, perché adesso funziona in una maniera differente. Ragazzi, sembrano essere delle build molto particolari. Anche il Barbaro sembra avere una build con il Bash molto potente, poiché si vede già da quella che ha portato Rob che sembra funzionare abbastanza bene. Ragazzi, vedo che sta nascendo qualcosa, qualcosa di totalmente diverso rispetto al solito. Se volete anche un video della tier list, delle build attuali che potranno affrontare anche questo pit, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Perché chiaramente andiamo a vedere anche quale sono attualmente le più in voga, quindi quelle più adatte per poter salire sempre di più e ottenere risultati maggiori. Quindi facendo un piccolo recap ragazzi, adesso avremmo 15 minuti, non più 10 minuti. Il pit avrà 200 livelli, come lo erano anche prima, ma dal centocinquantesimo in poi la difficoltà sarà equiparabile a un livello 25 della Batuar of Zier. Quindi impensabile, seriamente impensabile, perché la salute dei mob sarà decisamente alta. Ma non parliamo di difficoltà in quanto danni, perché vi ricordo che è stata cappata quella, se non ero a livello 100. Quindi non dovremmo avere grossissimi problemi per quanto riguarda i danni, ma piuttosto per quanto riguarda la salute. Quindi dovremmo riuscire a fare così tanto danno da poter abbatterli il più velocemente possibile. Per quanto riguarda la RNG, loro stanno cercando di equiparare il tutto, di bilanciare il tutto. Ma ricordiamo che un bilanciamento di questo genere è sempre molto complesso, perché ci sono svariate classi, ci sono svariate armi, ci sono svariate cose che poi vanno a scontrarsi con quello che il bilanciamento dovrebbe essere. Perché ragazzi, un barbaro che ha fatto danni, però poi è arrivato a un certo punto, magari non li fa più perché viene nerfato, a un certo punto incomincia a fare il negromante e torniamo punto e a capo, è sempre un pochino complesso. Quindi bisognerà vedere cosa riusciranno a fare per quanto riguarda anche il bilanciamento generale e di questo fishing, appunto, che parliamo dell'RNG. Quindi delle condizioni specifiche per poter fare un dungeon al massimo delle nostre possibilità. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questi cambiamenti, se vi stiano piacendo, se non vi stiano piacendo, se questo endgame nuovo, per così dire, vi sta hypando. Naturalmente lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportare lo stesso. Da Dalcon è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!